Se stai cercando un appartamento chiave in mano senza alcun tipo di lavoro e anche già arredato con due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, balcone, garage beh, rimani con me perché non te ne pentirai Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita Siamo in Borgo a 700 metri dalla piazza del Popolo e qui si trova questo appartamento al primo piano in una palazzina di sole 4 unità con ingresso sul soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno finestrato con box doccia ripostiglio, ampio balcone e grandissimo garage al piano terra a. L'appartamento è completamente arredato e ristrutturato Iscriviti al nostro canale sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri ci vediamo in visita